Premio fedeltà ma non solo per Hannes Fink, il primo calciatore dell'attuale rosa del Südtirol, ad essere stato gratificato dal rinnovo del contratto, che era in scadenza il prossimo giugno. Il 23enne esterno offensivo si è infatti legato ai colori biancorossi, per altre tre stagioni segnatamente sino a 2016. Un importante riconoscimento per Hannes che in questa stagione festeggia il suo decimo anno consecutivo in forza al Südtirol. Nato a Bolzano il 6 ottobre 1989 e residente a Collalbo, Hannes Fink è approdato nel settore giovanile biancorosso a 13 anni, scovato dai talent scouters Südtirol in un torneo locale e riservato alla categoria esordienti. Fausto Grandi e dei suoi collaboratori hanno convinto Hannes a dedicarsi esclusivamente al calcio e a preferirlo ad hockey e tennis, discipline nelle quali peraltro Fink eccelleva in età giovanile. Ma la scelta si è rivelata azzeccata. Il talento calcistico di Hannes è infatti ben presto fiorito, tanto da bruciare le tappe nella sua trafila nel settore giovanile, sino ad approdare in prima squadra non ancora maggiorenne. Questa è la settima stagione consecutiva fra i professionisti di Hannes Fink, che è stato uno dei più meritevoli artefici con 25 presenze e due gol della promozione in prima divisione Lega Pro del Südtirol. Una promozione festeggiata allo Stadio Druso il 9 maggio 2010, nel vittorioso match casalingo contro la Valenzana, che sancì la vittoria del campionato e l'ascesa nell'ex C1, terza divisione nazionale per importanza. Il rinnovo contrattuale firmato nei giorni scorsi sarà suggellato da qui a breve da un altro importante riconoscimento per Hannes, che è prossimo a tagliare il traguardo delle 100 presenze in maglia bianco-rossa. Un traguardo distante appena a quattro partite per il 23enne esterno offensivo di Collalbo, diventato ormai uno dei cacciatori simbolo del Südtirol.